Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Power, della quale si sono perse le tracce nel 1994, sarebbe viva e abiterebbe in Arizona. Lo sostiene il settimanale tedesco Freizeit Review, che ha intervistato il capo della polizia di New Orleans, Warren Reilly, secondo il quale la Carrisi si troverebbe a St. Anthony, un convento greco-ortodosso di Phoenix. Il detective della squadra omicidi di New Orleans conferma al settimanale tedesco l'attesi del capo della polizia, dicendo di avere nuovi indizi su dove si trova la donna, indizi che però non possono essere rivelati dal momento che l'indagine è ancora in corso. Sdegnato Albano Carrisi, la notizia secondo la quale mia figlia Elenia si troverebbe in Arizona, dice, è una speculazione vergognosa. Il popolare cantante stigmatizza la notizia come una bufala maledetta dove non c'è neppure mezza verità. I settimanali tedeschi sono i peggiori, conclude il cantante, stanno inventando balle, scavi, tombe, pur di vendere copie si venderebbero l'anima, come è successo con una televisione spagnola e la quale ho fatto causa. Grazie per la visione!